Ciao bimbi, ciao a tutti! Siamo qui con Ernesto, Bocca, Lorenzo e Francesco, Francesco ci sta ospitando in questo bellissimo posto, siamo all'Oasi delle Api, a Calospelli, a Guasticce, dove si produce un miele fantastico che a breve diverrà il miele di velo buono, fra l'altro miele in culla è il suo progetto incredibilmente unico, andatelo a vedere, ve ne parleremo meglio in altri video. Senti, ma a parte di scherzi, ma cosa siamo venuti a fare? Siamo venuti a far miele di velo buono, mia discorsi!